Chiudiamo le trasmissioni pomeridiane con un motivo sfornato di fresco a Los Angeles, capitale del mondo musicale. Squeeze me! Ecco, è arrivato il grande D in persona, Dave Garver. E Dave vi delizierà i timpani con cinque ore di chiacchiere e melodie. Quindi per il momento il vostro Al Marti vi dice, restate in ascolto amici, perché le sorprese non sono finite. Ciao. Ehi, di chi è quella lettera? Di quella stazione di San Francisco? Sì. Beh, che ti dicono? Vogliono le solite cose, biografia, fotografie. Ma non è Madge Brenner che ti scrive? Sì, prepara una nuova trasmissione. Allora ormai sei a cavallo, è fatta. Perché dici così? Dai, dai, Dave, andiamo, è una donna, no? Beh, veramente quella è anche nonna. Da quando in qua la cosa è un ostacolo per te? Ehi, bello, è meglio che ti muovi, eh? Ti ho già annunciato. Sì, sì, ho sentito. Sei sempre un amico. E tu sei sempre in ritardo. Ecco. L'uomo ha distrutto le vie della bellezza. Le sue città sono rospi neri. Nei giardini della vita tutto è seccato, tutto è sfiorito. Non cresce più senza il calore la pianta dell'amore. Qui è Dave Garber con un po' di poesia, un po' di chiacchiere e cinque ore di musica per starvi vicino e tenervi compagnia. K.R.M.L. Dave Garber. Salve. Salve, dica pure. Suona Misty per me. Misty? Oh, d'accordo, è qui già pronto. Grazie della richiesta. Allora la sconosciuta di Misty ti ha già telefonato, eh? Vai forte. Ciao, bello. Oh, dritto a casa, mi raccomando. Ci vediamo all'alba.